Bianco è l'odore del tempo che va Jacopo Brusa, Gavazzeni ha definito Nozze Istriane come l'opera più teatralmente salda fra quelle composte da Smareglia Sì, certamente Nozze Istriane, l'opera che mettiamo in scena quest'anno il Festival Illica di Castello Arquato, di Antonio Smareglia per quanto riguarda la musica e evidentemente il libretto di Luigi Illica è una delle opere teatralmente, drammaturgicamente probabilmente più riuscite sicuramente del repertorio illichiano, credo anche di quello di Smareglia adesso io ammetto di non conoscere tutto il repertorio di Smareglia ma certamente quest'opera si svolge in maniera pressoché perfetta c'è un'azione drammaturgica, teatrale, sempre continua non ci sono cali di tensione musicalmente si incastra tutto veramente molto bene e quindi credo veramente che si tratti di un lavoro che merita assolutamente di essere riproposto per il pubblico ecco, anche a differenza per esempio mi viene in mente magari di libretti anche più conosciuti di Illica come Andrea Chenier per esempio sicuramente è un capolavoro per molti versi anche musicale però diciamo è un po' contorta anche tutta l'azione drammatica qui invece è veramente tutto ben chiaro e scorre senza soluzione di continuità e il pubblico veramente rimane attaccato allo schermo se fossimo al cinema i tempi anche devo dire che sono molto cinematografici quindi Smareglia tra l'altro è un finissimo orchestratore veramente apprezzato anche a livello internazionale da compositori quale Johannes Brahms per esempio ed è abbastanza incredibile che in Italia venga così poco rappresentato